Negli episodi precedenti abbiamo visto tre oscuri segreti di LinkedIn per migliorare drasticamente il nostro profilo e la nostra capacità di reperire opportunità professionali di valore utilizzando la piattaforma. Ve li ricapitolo rapidamente. Numero 1, la ricerca booleana, che è il segreto dei selezionatori ed è utile per cercare qualunque cosa sulla piattaforma senza necessità del profilo premium. Numero 2, l'importanza delle competenze, che ci confermiamo reciprocamente sul nostro gruppo Telegram, link in descrizione. E numero 3, i messaggi di contatto diretto, utili per candidarci direttamente con i selezionatori e dei quali potete ottenere gratuitamente un sample iscrivendovi alla mia newsletter mensile della quale trovate il link in descrizione. Già queste tre informazioni che potete reperire gratuitamente consultando questo contenuto sono di enorme valore, ma nel video di oggi ci spingeremo oltre. Io sono Valerio Villani e vi do il bentornato sul mio canale e in questo nuovo video per la rubrica Lavoro da sogno, la rubrica dedicata esclusivamente a contenuti di orientamento e di personal branding. Nel video di oggi continuiamo il nostro discorso sui segreti di LinkedIn e andiamo a vedere in particolare due tips che per me e per tante persone che ho seguito professionalmente hanno fatto veramente la differenza. Come sempre, prima di iniziare vi voglio ricordare di lasciare un like per supportare questi contenuti, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e attivare la campanellina per non perdervi i prossimi. Inoltre, come sempre, in descrizione trovi tutti i link utili per il tuo sviluppo di carriera e per la ricerca del tuo lavoro dei sogni e inoltre tutti i link di cui parlo nel corso del video. Quindi, sempre occhiata in descrizione. Detto questo, siamo pronti per iniziare. Esiste un retroscena tremendo di LinkedIn che fa in modo che i risultati di ricerca, nella barra di ricerca, cambiano da persona a persona. Ci ho messo un po' per capire perché i risultati cambiassero da persona a persona e dopo un po' di smanettamento ho trovato la soluzione. LinkedIn è per prima cosa un social e l'obiettivo di tutti i social è tenerci incollati quanto più tempo possibile sulla piattaforma. Perché da business model i social media guadagnano sull'attenzione delle persone vendendo pubblicità. Infatti, se andiamo a consultare il bilancio d'esercizio di LinkedIn, noteremo che gran parte delle entrate derivano dall'advertising B2B, business to business. Pertanto, in base a cosa indicizza i risultati di ricerca? L'indicizza semplicemente sulla base di che percentuale, che probabilità ci sono, che noi andiamo ad interagire con quei risultati. Quanto più l'algoritmo di LinkedIn ritiene che c'è possibilità che noi interagiamo con quei profili, tanto più ce li metterà nelle primissime posizioni. E in base a cosa li sceglie? LinkedIn fa un mix tra keyword che noi abbiamo cercato, cioè le parole chiave che abbiamo inserito nella barra di ricerca, collegamenti in comune con quelle persone e qualità dei collegamenti in comune, cioè quanto abbiamo interagito con collegamenti in comune. Tanto più abbiamo interagito con questi collegamenti, tanto più è possibile che noi siamo intenti a contattare anche i primissimi risultati di ricerca e quindi restare più tempo possibile sulla piattaforma. Risultato? Se vogliamo comparire tra i primi risultati di ricerca, dobbiamo avere collegamenti in linea con quelli della persona che vogliamo trovi il nostro profilo. È complicato, ma mi spiego meglio con un esempio. Supponiamo che noi siamo dei data analyst a Roma, vogliamo che tutti i recruiter che selezionano data analyst su Roma trovino il nostro profilo tra i primissimi risultati di ricerca. Pertanto, quello che dovremo fare è avere tanti data analyst nei nostri collegamenti, avere tanti selezionatori che svolgono ricerca su data analyst tra i nostri collegamenti, semplicemente perché è molto probabile che anche il selezionatore abbia gli stessi collegamenti e perché no, anche interagire con i collegamenti che abbiamo. Tutto questo messo insieme con il nostro profilo targettizzato e posizionato farà in modo che quando un data analyst andrà a performare una ricerca per un profilo in ambito data analyst, scusate le ripetizioni, troverà il nostro profilo. E già aver scoperto questo e averlo subito messo in pratica ha portato dei risultati, ma non solo, perché come sempre mi voglio spingere oltre. Quindi ci colleghiamo con recruiter che selezionano profili simili al nostro, ci colleghiamo con profili simili al nostro, c'è il pezzettino extra da aggiungere e che fa veramente la differenza, cioè eliminare il superfluo, targettizzarci al massimo per il nostro obiettivo professionale. Sul LinkedIn ci sono quattro aree fondamentali, riassunto, introduzione, competenze e mansioni. Quello che dobbiamo fare è togliere ogni cosa superflua e non in linea con il nostro profilo, con i nostri desideri professionali, da ognuna di queste quattro aree e targettizzarci al meglio. Per capire come fare possiamo aiutarci in diversi modi. Punto primo andare a stalkerare, a consultare profili che già svolgono o svolgono il ruolo per il quale noi vorremmo essere trovati, magari anche consultare i primi già indicizzati nella ricerca su LinkedIn e vedere un po' come hanno curato il loro profilo, cosa hanno scritto, come si sono posizionati. E seconda cosa, andare a consultare le job description, per capire in che modo le aziende e i selezionatori chiamano la nostra job title e cosa andare a scrivere all'interno delle mansioni e delle posizioni professionali che abbiamo svolto. Sempre esempio pratico sul Data Analyst. Il Data Analyst può essere anche conosciuto come Business Analyst o Business Intelligence. Vi faccio proprio un esempio su due piedi. Noi dobbiamo avere nel nostro profilo LinkedIn sempre tutti i tag con i quali questa posizione è conosciuta. Quindi ad esempio nel summary, nel riassunto, andremo ad inserire Facendo questi passi e integrando queste attività nel vostro profilo LinkedIn avrete dei miglioramenti drastici. Metteteli in pratica, fatemi sapere e soprattutto colleghiamoci su LinkedIn così magari posso vedere l'operato e il lavoro che avete svolto. Quindi, ricapitolando, collegamenti e interazioni con profili in linea con i nostri obiettivi professionali e targettizzazione folle, precisa, del nostro profilo. Sembrano cose un po' scontate ma quando entriamo nell'ottica che LinkedIn è un social e ragiona come un social, riusciamo a muoverci molto meglio sulla piattaforma. Per i più interessati a questo argomento e in generale lo sviluppo professionale vi ricordo che all'interno della nostra Career Academy fornisco un servizio non solo di revisione ma anche e soprattutto di supporto costante e diretto allo sviluppo professionale oltre al materiale formativo, lezioni live e corsi impacchettati e pronti per l'utilizzo. Inoltre, raga, l'Academy sarà in sconto per tutto il mese di novembre quindi se già pensavate di entrare è il momento giusto per farlo. Vi lascio tutti i link in descrizione. Se invece poi siete interessati in particolare all'argomento LinkedIn oltre a poter fare degli incontri privati con me, dei quali come sempre avete il link in descrizione ho in programma a dicembre di fare un corso completo che partirà dalla creazione LinkedIn da zero fino a veramente gli ultimi step di interazione di come sfruttare tutte queste tips per ottimizzare il nostro profilo e ricevere delle offerte. Quindi restate sintonizzati, attivate la campanellina e la newsletter potrebbe aiutarvi per ottenere qualche sconto. Spero che questo contenuto, questa ricerca che ho fatto vi sia stata d'aiuto e ovviamente, ripeto, teniamoci in contatto su LinkedIn così posso anche controllare un po' il vostro operato. Teniamoci in contatto anche su Instagram che sto pubblicando dei contenuti e sto provando a far crescere anche lì il progetto di divulgazione. Il mio Instagram è valevil95 e per il video di oggi è tutto. Grazie per avermi ascoltato e alla prossima!